ciao luca benvenuto al mio format delle interviste piano piano riesco a fare tutti voi location diversa dal solito siamo nel mio camper perché nel suo box nel camion stanno lavorando reduce da due giorni di testa che dire due giorni è un po esagerato perché il tempo il giorno 1 e la mattina del giorno 2 di oggi sono stati un po inclementi quindi pochi giri un po per tutti però d'altronde bisogna accettare abbiamo già fatto un po poco abbiamo fatto alla fine buoni il primo turno di ieri è l'ultimo turno di oggi quindi nel mezzo è stata acqua maltempo e tutto quindi alla fine prendiamo buono questi due turni qua cogliamo l'occasione per fare la nostra solita chiacchierata con i vari piloti oggi c'è lui e come al mio solito faccio parlare voi io vi conduco un attimino nella storia della vostra carriera in questo caso della tua carriera quindi partiamo dall'inizio anzi prima voglio sapere di chi anno sei quando si è mila 1 il 29 agosto 2001 se il pilota più giovane a cui faccio l'intervista mi sa di essere il proprio più giovane anche nella mia categoria forse si come iniziata la passione per le moto ma iniziata una trasmessa mio babbo perché mio babbo corriva ma lui faceva faceva enduro però faceva fuoristrada con motore da cross mi ha messo sulla mini moto avevo quattro anni mi sembra quattro anni e mezzo e mi aveva fatto sia provare un motore da fuoristrada mini cross sia mini moto e ha capito che la mia strada era un po più sulla strada sulla pista che nel fuoristrada mi ha trasmesso lui dai è stato dico arriva fatto diversi diverse gare fatto anche da sei giorni fatto ha vinto degli italiani quindi uno abbastanza di livello si esatto esatto poi sei samarinese tra l'altro non l'ho detto ma sei primo pilota straniero esatto esatto e dopo insomma iniziato da lì dai come sempre come un gioco alla fine ho fatto la prima gara mi sembra sei anni fuoristrada no in moto fuori strada lasciata subito ma per una passione cioè ti piacevano di più le ruote l'asfalto o è stato tuo papà? penso di sì penso di mi piaceva più quello poi adesso non mi ricordo bellissimo però mi piaceva più quello poi mio papà ho visto che ero un po più portato per quello continuato sì 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 diciamo che appena visto che mi ero sporcato di terra io facevo che schifo così ha detto non è il mio niente ho fatto la prima gara cattolica mi ricordo prima gara cattolica sei anni sul bagnato e l'ho vinta mi ricordo ha subito così strano anche perché io sul bagnato non è che sono un fulmine invece lì si vede che non sapevo quello che stavo facendo è andata bene no però mi ricordo questo ricordo qui che la prima gara che ho fatto sul bagnato l'ho vinta con la Pasini il motore è tutta gialla Pasini e poi dopo ho fatto fatto mi sembra è stato il 2007 mi sembra 2007 dopo ho continuato con il mini moto sono stato ufficiale Polini mi sembra 5-6 anni ufficiale Polini e ho iniziato a fare il campionato italiano a fare le cose dai sono fatte più serie ho vinto diverse selettive andavo abbastanza bene il mini moto mi divertivo parecchio fino ai 10 anni da lì fino mi sembra 10-11 anni se non erro mi sembra di sì chi erano gli avversari dell'epoca eravamo io i miei compagni di squadra eravamo io e Vietti e Celestino siamo stati sempre i miei compagni di squadra ufficiale Polini tutti e due battagliavamo io e lui c'era anche Nicola Spinelli eravamo noi tre diciamo quelli da più veloci e dopo da lì sono passato alla mini GP 50 a marce quindi marce esatto a ruote alte già come si di mini GP tipo si due tempi due tempi si cinquantino da 12 ruote da 12 nell'italiano nell'italiano esatto fatto mi sembra due anni di mini GP due anni di mini GP dove non erano andati benissimo perché cioè rompevo quasi sempre questo lunedì che rompevo quasi sempre quindi non è che in gara non ho fatto grandi risultati dopo da lì sono passato alla 125 invece di 2013 mi sembra primo anno di 125 per moto 3 e lì era andato abbastanza bene mi ricordo non era male mi era piaciuto e l'anno dopo ho fatto sempre per moto 3 sempre mini GP con la stessa moto e in cui tutto questo fino alla mia carriera è stata sempre con mio babbo eravamo sempre mio babbo cioè quindi eravamo io la moto curava sempre mio babbo cioè come meccanico come meccanico sempre quando eravate in Polini sempre minimo esatto esatto si aveva fatto sempre tutto mio babbo quindi non eravamo mai appoggiati a una squadra e anche 125 c'era tutto nuovo perché alla fine non avevamo dati non avevamo telemetria niente quindi andava in pista e basta cioè faceva tutto lui sospensioni gomme il motore tutto tutto da solo tutto da solo tutto da solo infatti è una mia grande fortuna mio babbo perché non ci fosse stato lui quest'ora era bello che dopo ho fatto il secondo anno di premoto 3 che era andato abbastanza bene mi ero già lottavo il campione italiano ho fatto l'ultima gara a Mugello che ho avuto un problema la moto si è sfilato un cavetto nella camicia del filo non si vedeva bene che si era sfilato e ho perso la gara purtroppo non sono riuscito a vincere l'ho perso lì diciamo l'italiano ma qui già eri appoggiato a un team no sempre come babbo sempre come babbo riuscivate a sostenere una stagione al CIV sì 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 perché se guarda adesso i team di premoto 3 sono cioè dei team strutturati da un italiano c'era proprio telemetrista, sostanzionista esatto noi era diverso allora sì alla fine guarda poi si parla di dieci anni fa sì perché alla fine io con mio babbo ho fatto fino a 2019 sempre con mio babbo fino a 2019 dopo mi sono appoggiato a una squadra e quindi da lì eravamo noi con il frugoncino ci spostavamo sempre dormivamo lì facevamo tutto lì da mangiare tutto lì era una scelta o una necessità? in che senso? cioè far da soli così che comunque immagino le trasferte e più che altro non avevamo i soldi per appoggiarsi il budget per appoggiarsi a un team quindi facevamo tutto noi immagino una necessità? sì esatto mio babbo faceva era capace a far tutto cioè è capace a far tutto da meccanico aprire un motore smontare lo metterlo a posto anche il sospensionista mi babbo fa anche quello di un mestiere a tempo perso ok perché per tanto tempo ad alti livelli esatto esatto di un'e19 eri e un 600 sì esatto dopo dalla premoto 3 sono passato alla moto 3 ho fatto uno di moto 3 achieve che anche lì non è andato benissimo perché lì mi ero appoggiato a una squadra invece lì mi ero appoggiato a una squadra solo che iniziavo a fare un po' di cadute iniziavo a costare un po' troppo ho smesso prima di finire l'anno e alla fine era un po' un momento giù della mia carriera perché non sapevamo cosa fare ma lì dici che c'è stato il pad... cioè cadute perché iniziava a essere più... c'era più competitività? cioè eri un po' più al limite oppure era una questione tua da ragazzino che magari non c'eri con la testa? no in realtà io testa bene o male sono riuscito sempre... se ero uno inquadrato per quello no... era più per inesperienza e anche un pacchetto tecnico non diciamo tanto performante esatto magari gomme un po' vecchie un po' usate non erano il massimo diciamo ok quindi qualche caduta di troppo... esatto dopo lì siamo... ero un po' avvilito perché non sapevo cosa fare e dopo è riuscito a questa nuova categoria la 300 e il mio abbo ho comprato mi ricordo ho comprato... aveva comprato due R3 aveva comprato e non costavano tantissimo... e li siete tornati a farvele voi... esatto a farele a noi e mi ricordo che quando è iniziato a smutare le moto per farle da pista si era messo le mani nei capelli perché ha detto cosa sto facendo aveva iniziato a guardare le moto e ho detto questo è non so tanto moto non so se passare dalla moto 3 a quelle... un po' di differenza si nota... esatto esatto... a livello di costruzione, di immagine, di caratteristiche... esatto però avevo fatto un test con l'R3 con un team e era andato subito forte e quindi abbiamo deciso di spostarci lì... infatti abbiamo fatto la scelta giusta perché comunque primo anno 2017 con l'R3 sempre io e mio babbo abbiamo vinto tutto abbiamo vinto... quindi hai fatto il test del team ma non si è andato in accordo con quel team lì? no, mio babbo ha comprato due moto, una correva, una da ricambio e... sempre io e lui da soli con la tenda e tutto... quell'anno lì abbiamo vinto italiano, il trofeo della Coppa Italia... l'R3 Cup esatto... la selezione Blue Crew con la Yamaha e basta abbiamo vinto tutto lì... e chi erano i tuoi avversari nell'italiano? nell'italiano c'era Bastianelli, c'era Carusi, c'erano... comunque eravamo tutti ragazzini... non c'erano big... eravamo tutti ragazzini dai... e da lì... una soddisfazione comunque... esatto esatto... tutto era soli... esatto... poi eravamo... c'è anche in griglia non avevamo neanche generatore per le termocoperte... non avevamo niente... mi portavo il cavalletto... l'ombrello lo tenevo io... lui faceva una foto magari per i due sponsorini che avevamo... come amatori... esatto esatto... era bello comunque... mi piaceva... e dopo 2017 si è aperta qualche porta... si dopo... l'anno dopo ho fatto il mondiale con la 300... l'anno dopo... con l'aiuto di Yamaha? sono appoggiato... sì... sono appoggiato in team 3-0 con Yamaha... è un team che è fantastico... mi ha aiutato molto... 2018... 2018... primo anno di mondiale tra il Super Sport 300... ho fatto qualche gara buona... però purtroppo è stato l'anno che sono entrati i Kawasaki 400... dove noi eravamo con le Yamaha... quasi diciamo standard... e loro invece erano aperti... c'era tanto divario di motore... è stato tosta... e passare... non era una... che ti viene equilibrata esatto... passare dall'italiano al mondiale... c'è la prima volta che sei arrivato... nel paddock del mondiale... che emozioni hai avuto... che sensazione hai avuto... cioè ti sei gasato... ti sei emozionato... oppure era una cosa... cioè eri molto inquadrato ed era quindi normale... no per me... io ero sempre comunque inquadrato... però io ero anche gasato... cioè entrambe le cose alla fine... perché nel paddock poi vedevi... esatto... vedevi... madonna... figo figo... figo... era bellissimo... guardavo sul muretto lì... mi ricordo... li guardavo... perché non potevi neanche andare... quando già avevo la superbike... cioè non potevo neanche andare adesso... mi sa... se non c'è il passo... guardare sul muretto... però io qualche volta andavo... mi sbattavo fuori... no... era troppo... anche se eri davanti... tra le Yamaha... non lo so... c'era... comunque c'era una decina di Kawasaki... tutti davanti... quindi la top ten era difficile... arrivarci... già... mi ero un po' stufato del 300... qui ero già fisicamente... uno un po' più... grossetto... mi stavo un po' a pesare... quindi... passiamo a... alla 600... esatto... alla fine... mi sono trovato subito bene... con la 600... con che moto? Yamaha... Yamaha sempre... ho fatto la seconda gara del Civi... ho fatto la pole position... al Mugello... era andato subito forte... nel 2019... c'era già qualche... c'era già un bel nome... che c'erano... ah c'erano tutti... broccoli... mercandelli... nella categoria... la più... numerosa... numerosa... esatto... c'erano un sacco di... bene o male... tutti quelli che c'erano... anche adesso... c'erano anche quegli anni lì... e ti sei adattato subito... si si si... si è stato un po' difficile all'inizio... perché... mi sembrava di... di fare le curve piano... quindi... entravo forte... molavi i freni dentro... come un R3... però... chiaramente... mollava qualche volta... cioè... la maggior parte delle volte... è un po' si... però tutte scivolate... che... mi hanno imparato... ma in questi anni avevi... hai avuto... qualche coach... o qualcuno che ti... aiutasse... nella parte diciamo... tecnica... proprio della guida... oppure... no... mi veniva... qualche volta... mi veniva a aiutare... De Angelis... William... il fratello di Alex... esatto... esatto... mi veniva qualche volta a vedere in pista... mi dava due dritte... però... non ho mai avuto un coach fisso mio... che... neanche dalle mini moto... niente... no... lì in 2019... diciamo che è stato il primo anno... anche dove ho fatto... un primo approccio con la telemetria... guardare un po' i dati... quindi... avevi tecnici... telemetristi... eccetera... che magari ti dicevano dove... correggere... e poi vedevi in pista gli altri... si... l'autodidatta... esatto... esatto... avevo... quella volta lì... l'R3... usavo le mie R3... che avevo fatto il Cibro... l'ho usato anche... che uso tutt'ora in allenamento... ah... e... mi ricordo velo molto tardi... l'R3... e tutti i tecnicismi che servono... a un pilota... di adesso... del livello che hai adesso... per interfacciarsi con i tecnici... eccetera... li hai imparati con i tecnici... di quegli anni lì... del Seicento... per dire il problema... la moto... esatto... comunque... immagino che con tuo papà... c'era una dinamica... diversa... esatto... io dicevo... beh... la moto è a posto... basta... andavo via a giocare... cioè... a fare le cassate con gli altri... nel paddock... con la bicicletta e così... quando poi sei approcciato... a un team vero... diciamo... al mondiale... esatto... metodi di lavoro... hai dovuto impararlo lì... e lì... magari ho fatto anche uno step di maturità mio... ok... esatto... quell'anno lì con Gas... ho avuto... Federzoni... Luca Federzoni... che lui lavora... nel team ufficiale Yamaha... in Superbike... con Locatelli... ha lavorato con... come tecnico... con il sospensionista... esatto... lui mi ha fatto crescere molto... già quell'anno lì... mi è piaciuto tanto... esatto... e... 2019... era andata... qualche gara... l'avevo fatta bene... però... diciamo... che non era andato benissimo... alla fine dell'anno... invece... l'anno dopo... quando sono passato... sempre R6 con... con gomma... con... con... con il team di gomma... lì... erano vinti l'italiano... erano andati forte... l'anno del Covid... 2020... lì... il CIVA è stato di 4 gare... 4 tappe... quindi... vinte... 3 su 4... praticamente... vinte... sì... avevo vinto... sempre Yamaha... no... un forte... sì... esatto... e... anche lì... mi sono trovato benissimo... con loro... e... l'anno dopo... sono... sono passato... a fare il mondiale... nel 2021... con il team CM... sempre Yamaha... e lì... sono andato forte da subito... anche non conoscendo le piste... ma vincendo l'italiano... c'è andato al mondiale... perché hai avuto un supporto... per quel motivo lì... o... è stato il team a chiamarti... diciamo... vincendo l'italiano... mi ha aiutato comunque... a farmi anche un po' conoscere così... perché eri giovane... esatto... 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 dopo comunque CM... mi ha... mi ha preso... ha creduto in me... e quindi ha puntato su di me... e... diciamo che... andavamo bene... e... andavamo bene... prime gare... avevo fatto... prime 6-7 gare... avevo fatto già... cinque podi... quindi... ero andato forte... non conoscendo le piste... cioè... comunque vai a lottare con i Gerter... con... con gli altri... con gli altri piloti lì... che sono forti... sono... sono anni che corrono lì... nelle... in quella categoria... eh... conosco le piste... conosco un tutto... in 600... in Thailand... con la 300... non è riandato... e poi andavano di più all'estero... rispetto a quest'anno... eh... cosa c'era... Argentina... può essere? si... mi ricordo... c'era... quell'anno lì... eh... Qatar non c'era più... l'avevamo fatto l'anno prima... lì si andava... si... forse a Australia... non so se facevano già... Indonesia... non penso... Australia penso di sì... si... quindi comunque... non mi ricordo... anche perché... piste nuove... le avrei incontrate sicuramente... si... si siano quasi tutte nuove... a parte quelle italiane... il Misano... eh... dopo... lì... purtroppo... quando ero... c'è stata la gara di... di manicure... eh... avevo fatto... la Polco... il record della pista... e... purtroppo in gara però... quando ero primo... son caduto... e mi hanno preso... mi hanno preso... dietro... ah... eh... lì mi sono fatto male... mi sono fatto una vertebra... diciamo che... è stato fermo... è stato fermo... è stato fermo... dopo questo... sì perché... è stato l'inizio della stagione... quindi poi l'è perso... quarta... quinta gara... di solito... questa gara... quinta e sesta gara... mi sembra... è rimasto fermo un po' di mesi... è lì... dopo il campionato è finito lì per me... è finito lì... è stata tosta... perché... cioè dopo l'infortunio così... riprendere tutto... non è stata semplice... ma è stata tosta... per riprendere i meccanismi... da pilota... i riferimenti... o proprio a livello... mentale... emotivo... una botta del genere... ti ha fatto pensare un po'... cioè un po' alla fine sì... un po' all'inizio sì... ci pensi... dici... cioè dopo l'infortunio così... è difficile... però alla fine... alla fine... ho ritrovato subito... appena sono risalito sulla moto... ho trovato subito feeling... e... la stessa mentalità che avevo prima... quindi... anche perché comunque durante il mio... il mio recupero e tutto... gli allenamenti per recuperare l'infortunio... eh... avevo parecchio... parecchio tigna... eh... bello... bello carico... perché dicevo... questo andavo bene... eh... andavo forte... eh... però... alla fine... l'anno dopo però... sono riuscito... ero riuscito a fare il salto... in superbike... alla fine... con l'infortunio... ho firmato in superbike... e con il team di Barney... quindi ci sei qua... 600... esatto... hai recuperato... recuperato... e poi... hai segnato d'accordo con la superbike... esatto... da quando... ho recuperato... prima moto che ho provato... è stato... il V4... subito... e come mai 600.000... così... c'era stata l'occasione... l'hai sfruttata... c'era stata l'occasione... di fare il salto... eh... però... era un... contratto di due anni... quindi... non era un anno... se fosse stato di due anni... non sarei mai andato... in superbike... hai voluto questa lungimiranza... ma... hai un manager che ti aiuta... o... facciamo sempre il mio babbo... tutto il mio babbo... ok... anche a livello contrattuale... comunque... vai tu... si... 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 troppo... quindi... immagina che poi ci sia... però è contro... esatto... esatto... perché ho fatto quell'anno lì... con... con un superbike... che comunque... non ero posto io fisicamente... perché comunque... non ero... hai recuperato al 100%? no... no... non stavo male... per correre... qualche gara... facevo le punture... avevo proprio... stavo proprio male... male... ero rigido... ma quanti mesi... perché ho fatto... mi sono partito tre volte... ah... sempre alla schiena? si... si... la prima... dove mi ho fissato... alle vertebre... avevo quattro vertebre... bloccate... e... ho fatto... diciamo... la stagione così... eh... in superbike... ah... e quindi i movimenti... anche comunque... l'impostazione che io... sulla moto... non era la mia... che avevo... cioè... non mi sentivo bene... naturale... esatto... non era quella naturale... per stare più comodo... con la schiena... sono andato a fare... una posizione che non era... proprio da... da pista... racing... esatto... tra pedane... manubri... comunque... era... postissimo... però... nonostante tutto... secondo me... ero andato forte anche lì... perché... andavo sempre... a punti... tredicesimo... quattordicesimo... dodicesimo... ho fatto un decimo... che comunque... lottare con loro... con i big... le gare lì... sono toste... sono toste... poi fai tre... fai due giri... esatto... e fai tre gare... nel weekend... sono tre gare... e lì... solo... secondo me... abituarsi a quei ritmi lì... a far tre gare... ti vuole un anno... solo per abituarti a quei ritmi... perché... fai la gara lunga... il sabato... domenica... fai la gara corta... la... 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 la gara corta... sono dieci giri a fuoco... però te... c'hai... dopo c'hai due ore... per riprenderti... per mangiare... per fare... riposarti... e dopo c'è la gara lunga... quindi... era dura... era dura... soprattutto per come... ho messo io fisicamente... nella 600... facevi già gare lunghe... ma ne avevi solo... due... una sabato... una domenica... tra warm up... c'era più... un distacco... invece con la superbike... è più serrato... eh sì... perché fai quei... quei dieci giri a fuoco... che... ti amassero... cioè... sono dieci giri di qualifica... è quasi peggio fare... che fare una gara lunga... era torta... sì sì sì... quando sei andato lì in griglia... la prima volta... con i big... lì... veri della superbike... eh... a philippine... mi guardavo intorno... dicevo... ma un senso di dire... boh... ce l'ho fatto... oppure... mi sembra di stare in tv... prima gara però era Argon... era Argon... sì sì... però li vedevo già come avversari... non li vedevo più come... ok... come fan diciamo... esatto... li vedevo già come... mi sentivo... comunque... ero lì... però mi sentivo bene... lì... e avevi qualcuno... diciamo... da... come obiettivo... da... 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 andare come lui... oppure... puntavi solo a fare il tuo meglio... facevo il mio... quello che riuscivo a fare... ma la prima gara è andato bene... perché... comunque ho fatto un dodicesimo... non era male... prima gara... il mio problema così era... era che... eh... non conoscendo le piste... non... arrivavo... in ritardo... anche la gara... eh... quindi... come setting... come... sì... come un po' tutto... perché... io... magari in qualifica... non... non... avevo il giro secco... quindi non mi veniva il tempo buono... e partivo dietro... partivo in tunesimo... 22esimo... e quindi... però poi magari... nel warm up... correggevi qualcosa... il tuo passo era un po' meglio... sì... perché io... bene o male... il tempo che facevi in qualifica... lo facevo anche in gara... c'è qualcosa che non va... eh... esatto... quindi... riuscivo a tenerli in gara... dopo... recuperavo le posizioni in gara... certo... quindi... anche lì... c'è stato... sono riuscito a vincere... la mia soddisfazione... di quell'anno lì... che in palio... c'era una classifica a parte... eh... no... dei sorpassi guadagnati in gara... le posizioni guadagnate in gara... eh... ogni posizione che guadagnavi... era un punto... e lì... sono stato quello che ha fatto più... più punti... più punti... e più sorpassi... eh... e ho vinto una macchina... ah sì... ce n'è in palio una macchina... che macchina era? la Hyundai i20N... ce l'ho... ce l'ho... tutta graficata... superbike... che figa... molto figa... sì sì... una mia soddisfazione... ahahah... bello... però hai fatto tutto l'anno... sei arrivato... no... non l'ho fatto tutto l'anno... sì... purtroppo... il team... diciamo... non erano contenti dei miei risultati... ma... diciamo... si sono un po'... eh... come si può dire... eh... ricreduti... non so... a cambiare idea... sui di te... sì... ma alla fine... mi avevo preso per farmi crescere... poi dopo mi ha lasciato lì... cioè... alla fine... stavo facendo la mia crescita... stavo andando bene... ma è stata una cosa... netta... per te... cioè... di colpa... dall'oggi al domani... non ti aspettavi... io no... non me lo aspettavo... sinceramente... no... è stato un po'... vabbè... dopo... le ultime tre gare... eh... quelle fuori dall'Europa... quindi... Argentina... Indonesia... Australia... le ho fatte con il mio vecchio team della 600... eh... un CM... però aveva preso il Ducati... il V2... quindi... in 600... ok... lì... anche lì... sono arrivato... moto nuova... moto mai vista... ho fatto tre gare... il mio morale... già era a terra... fisicamente non stavo bene... quindi... non è che ero andate... hai fatto per finire la stagione... per vedere le piste... perché... mi ero mai andato all'Almi... mi hanno detto... vi ho fatto un'esperienza... ho visto le piste... non avevo fatto un gran risultato... il mondo... diciamo... il paddock del mondiale... come... ti sei trovato... come ti hai accolto... al di là dell'esperienza del tuo team... io la mi... cioè... mi sento... comunque... gli altri piloti... ti hanno accolto... non so... i rookie... quando arrivano... come vengono visti... ma alla fine... è molto easy... molto easy... sì... non c'è niente di particolare... nessun avvertimento strano... no... no... vai... fai il tuo... sì... no... molto easy... no... io mi sentivo bene lì... comunque... in quel paddock lì... mi piaceva molto... e... poi... 2023... non c'è stata più occasione... di tornare... di rimanere lì... no... cosa è mancato... budget... si... c'è stato qualche interesse... di... in 600... o in 600... 1000... lì... nel mondiale... aveva chiuso... dopo... mondiale... i posti... non erano... non c'erano... 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 quindi... hai preferito dire di no... prima di fare un'altra... diciamo... scelta sbagliata... dopo... sì... esatto... ero rimasto a piedi... si può dire... eh... dopo sono riuscito a trovare... Aprilia... eh... Team Nuove M2... e lì... ho parlato con Enzo... ho avuto una chiacchierata con lui... mi è piaciuto subito tanto... e ho dato... vengo con voi... eh... mi è piaciuto... da subito... mi è piaciuto... e... alla fine... mi sono trovato molto bene con loro... anche l'anno... dunque... l'anno scorso... penso di aver fatto un buon campionato... è stato subito competitivo... mi sono trovato bene con l'Aprilium... mi è piaciuto molto come moto... anche rispetto a un Ducati... da quello che avevo il Superbike... anche come team... ti trovi bene? sì... molto molto... mi è piaciuto molto... poi... anche io fisicamente... stavo meglio... eh... il passaggio da moto del mondiale... Superbike... vera... è una moto... diciamo... eh... semi stock... come regolamento italiano... hai notato qualche differenza... a livello proprio di... di guida... di... di... di qualità... sinceramente... la moto che avevo il mondiale... non mi piaceva da guidare... cioè... lamentavo sempre molte cose... non... non siamo mai riusciti di sistemarle... come volevo io... che è dovuto a team e moto... oppure anche la tua situazione fisica... che adesso magari è un po' meglio... sicuramente... un po' entrambe... però... secondo me... il pacchetto che avevo di là... non era... tanto buono... è meglio quello che è adesso... eh... in proporzione... sì... sì... secondo me... sì... anche perché comunque... ho fatto... tempi... più veloci... con questa qua... con la... con la Priglia... e Dallop... eh... eh... che con la... la Superbike... eh... qua mi hanno aggiato più forte... con la... con la Priglia... eh... 35... eh... ho fatto 35 e mezzo... con la... la Panigale... con la... però... no... non si dirà... dai regolamenti... sì... esatto... esatto... però... alla fine... appena sono salito sull'Apriglia... mi sono trovato subito bene... anche perché... io comunque sono uno che... di guida che comunque... scorre... c'ha percorrenza... eh... mhm... l'Apriglia... è una volta che vuole quella cosa... esatto... vuole... quindi mi sono trovato subito bene... che con la squadra... bravissimi... e quest'anno... siamo ancora con loro... eh... speriamo di fare una bella stagione... l'obiettivo immagino sia sempre vincere... eh... il titolo... sì sì sì... l'obiettivo è sempre di fare... di fare bene... di fare il massimo... poi... se viene... bene di vincere... meglio... eh... molto diplomatico... esatto... ma... eh... se dovesse succedere... comunque secondo te... le porte del mondiale... venendo da un campionato... come adesso è strutturato il CIV... si possono riaprire... oppure pensi che... sia... difficile... per te... come pilota... ma secondo me... sì... cioè... io punto comunque... fare... andare di là... cioè... vincere il titolo potrebbe fare la differenza... per trovare una buona squadra... oppure... vincere sicuramente aiuta sempre... a fare... ma... questo te lo chiedo perché... c'è stato qualche... cioè... se è un pilota a cui chiedono ogni tanto... di andare di là... fare qualche test... come l'anno scorso hanno chiesto al vincitore del National... esatto... anche a me l'anno scorso mi avevano chiesto di... di fare una gara di là... però... non me la son sentita... per... diciamo... coprire un infortunio di un pilota... esatto... una wildcard... esatto... esatto... però... non... non me l'ho sentita... anche perché comunque... avevo un contratto con loro... con Aprilia... esatto... guidavo anche un'altra... un'altra marca... anche se comunque loro mi lasciavano andare di là... liberamente... sia per rispetto a loro... non ho voluto fare questo... ma anche per... perché comunque... vai di là... con una moto... nuova... diversa... che non ho mai provato di fare una gara superbike... so già che... qual è il livello che c'è di là... perché c'è corso... so che... se non sei a posto... non... tipo... top ten... a livello da... top five o comunque top ten di... ma se fosse stato con... magari con una moto che conoscevo già... eh... probabilmente... eh... forse sì... non saprei... perché forse il rischio... immagino che se vai lì e fai il ventesimo... è un po' un bruciarsi di nuovo... sì... sì... perché alla fine... dall'esterno... chi non sa cosa è successo effettivamente... tra te e il team... un pilota appiedato... che la stagione è finita... eh... non sapendo un po' come siano andate le cose... purtroppo non ha una bella figura... esatto... no... esatto... quindi tornare e rischiare di... se vai di là... devi essere sicuro di avere un pacchetto... buono... che... sei sicuro che vai forte... e sei competitivo... se no... devi rimanere qui... e far bene qua... sì... al di là delle... i vari regolamenti... gomme... eccetera... come lo reputi il campionato italiano? ma... allora... l'italiano... il livello anche dei tuoi colleghi... il livello secondo me... è... di noi lì davanti è alto... cioè è un bel livello... purtroppo... mi dispiace perché... non è... non è un regolamento... cioè è diverso rispetto a quello del mondiale... quindi abbiamo altre gomme... c'è una motestock... non aiuta proprio a fare il salto... di là... per andare di là... e... però... se fosse un regolamento... diciamo... uguale... identico... secondo te ci sarebbe più... più visibilità... più numeri... al di là che effettivamente... aiuterebbe di più... cioè farebbe la differenza... un regolamento... identico a Superbike... oppure... secondo te... visti i numeri... visto... diciamo... l'ambiente... non cambierebbe nulla... al di là dell'aspetto tecnico... che ovviamente... avere la stessa moto aiuta... sì... non saprei dirti... sinceramente... secondo me alla fine... di cambiamento ne hanno fatti... però poi... forse aumenterebbe i costi e basta... alla fine a me... correre con la stock... non mi dispiace... mi piace come moto... eh... più che altro dai... sono le differenti... tipo le gomme... quelle cose lì... più che altro sono... però come budget... in teoria... un pochino aiuta... aiuta... se fai una moto Superbike... ci vogliono... troppi... perché a livello tecnico... vedere da fuori... la qualità tecnica dei piloti... mi sembra comunque... di livello... sì... 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 non so quanta differenza... facciano i piloti... che sono lì... a pari condizioni vostre... qui... a livello proprio di... tempi sul giro... non so quanta differenza... ci sia... perché alla fine... se te... e... con la moto di Barney... eri in zona punti... qua... comunque... ti giochi il podio... ogni tanto... sei davanti... ogni tanto tiro davanti... qualcuno... vuol dire che... il livello comunque... è da top 10... livello di qualità tecnica... dei primi 3... 4... 5... che sono qui... comunque la... cioè... dal primo all'ultimo... sono tutti forti... come essere... tutti i primi 5... del circo... mondiale... fa tanto differenza... comunque la qualità... del pacchetto... sì... più che qua forse... secondo te... sì... secondo me sì... anche perché... lottare con quelli... con i big... gli ufficiali... con Ria... con Topra... con Bautista... con loro... già loro hanno il pacchetto... che è il top del top... quindi... per giocartela con loro... il livello deve essere... quello anche... del pacchetto tecnico... se è già più basso... già parti con meno esperienza... conosci le piste... cioè... è difficile... quindi... devi... devi cercare di... di avere il miglior pacchetto possibile... il migliore... non devi trascurare niente... e quest'anno... come... come la vedi... per quanto ti riguarda... quest'anno... la moto uguale a qua dell'anno scorso... esatto... non abbiamo grossi cambiamenti... eh... mi sento bene... mi sento in forma... quest'anno sono... sono pronto... sono in forma... mi sento bene fisicamente... mi sto allenando bene... oggi ti ho visto... infatti... comunque... hai girato... 35 e 9... sì... in 35 e 9... sì... dai... soddisfatto... tra tutti... quello che alla fine... è più vicino al suo... sì... esatto... passo di stagione... sì... no... sono contento... alla fine... abbiamo lavorato bene... anche se abbiamo... alla fine abbiamo fatto due turni... buoni... due turni abbiamo fatto... quindi... abbiamo giocato poco... non abbiamo giocato tanto... andiamo alla gara con pochi... terzi... con pochi chilometri... bene Luca... io ti ringrazio... è stato bello... purtroppo... mannaggia miseria... ho dimenticato... il penarello... per farmi la... l'autografo sul mio casco... ormai storico... prossima volta lo porto... lo fermiamo... lo fermiamo... e correggiamo... lo teniamo il posto... teniamo il posto qua... e... io ti auguro... bocca al lupo... per la stagione... e tanto poi ci vediamo... nei vari weekend... e... ciao...